è finita l'attesa che è diventata presenza buona pasqua padre ernesto buona pasqua veramente a tutti buona pasqua ma io direi che l'attesa continua perché la pasqua non è mai realizzata fino in fondo la pasqua di cristo è realizzato ma ora siamo in attesa che lo spirito ci aiuti pian piano come dire a vincere quella tomba che dentro di noi e quelle ombre di morte che ognuno di noi si porta dentro ma oggi abbiamo una certezza che la resurrezione davvero possa pervadere e inondare tutta la nostra vita è davvero bello il vangelo che ancora una volta noi oggi proclamiamo quello di giovanni o quello di luca nella giornata noi leggeremo anche quell'altro luca 24 ma in giovanni la pasqua è davvero interessante perché abbiamo visto il giorno del venerdì santo che nella croce l'evangelista già vede i frutti della salvezza abbiamo contemplato due giorni fa la scena solenne del venerdì santo e abbiamo detto che è già un giorno glorioso è passione è morte ma anche resurrezione perché lì c'è il dono dello spirito di gesù il cristo di giovanni è proprio il cristo di del crocifisso di san damiano agli occhi aperti perché l'ultimo istante della sua vita nella storia è stata la consegna dello spirito santo a tutti quanti noi e il dono dell'obbedienza al padre acchinato il capo donandoci lo spirito ecco della resurrezione giovanni nel suo vangelo ne parla sempre fin dall'inizio fin quando dice in modo provocatorio distruggete questo santuario in tre giorni lo farò risorgere e chi lo sente ascoltare i maestri i dotti si meravigliano ma giovanni ha noto a lui parlava del santuario del suo corpo perché il suo corpo il tempio di dio il luogo dove incontriamo il padre solo il cristo risorto può chiedere la fede nella sua persona lui è il pane di vita lui è l'acqua viva lui è la resurrezione la vita ecco tutto ciò che è possibile dopo che gesù ci ha dato come raccontava nel capitolo 6 la sua carne per la vita del mondo l'eucaristia che è il memoriale di tutto il mistero di passione morte e resurrezione essendo risorto gesù può dare la vita a chi vuole l'aveva detto nel capitolo 5 quando opera quel segno sul paralitico come il padre risuscita e morte dalla vita così anche il figlio dalla vita a chi vuole il cristo risorto comunica la vita come lo fa attraverso la sua parola e quella parola va accolta con fede proprio in quel capitolo 5 gesù dice chi ascolta la mia parola e continua ad ascoltarla e crede continua a credere a colui che mi ha mandato già adesso alla vita definitiva quello che noi chiamiamo vita eterna non va incontro a giudizio è già passato dalla morte alla vita ed è venuto il momento ed è questo dice gesù in cui i morti udranno la voce del figlio di dio e quelli che l'avranno ascoltato vivranno verrà l'ora in cui tutti coloro che sono i sepolchi udranno la sua voce e ne usciranno ecco il risorto da fin da adesso la vita eterna quella vita che è definitiva darà cioè la resurrezione finale alla fine dei tempi risuscita davvero ognuno di noi pensate quanto sia importante anche se questo corpo mortale diventa polvere e cenere lui ci darà una carne nuova lui ci darà un corpo risorto come l'ha avuto lui come il corpo risorto della vergine maria è una visione pasquale meravigliosa giovanni ci offre proprio una versione tutta sua legata alla scoperta del sepolcro quando le donne proprio va la maria maddalena quella maria maddalena che è la protagonista è lei che esce per primo molto probabilmente accompagnata dalle altre amiche da queste donne che noi chiamiamo davvero le pie donne queste donne che sono sempre state vicino a gesù non l'hanno mai abbandonato lo hanno seguito fin dalla galilea addirittura quando è ancora buio al mattino presto delle donne che vanno insieme a vedere forse per omaggiare per un contatto che forse solo le donne sanno avere io ricordo mia mamma quando andava a visitare il sepolcro di mio padre solo le donne vedono in quella pietra un po come i bambini vedono dietro quella pietra ancora quel corpo quella quell'amore quella presenza beh le donne vanno lì proprio per contemplare una presenza si aspettano qualcosa non saranno nemmeno loro e trovano che la pietra è stata ribaltata e corrono maria maddalena corre da simon pietra dal lato di cepli i primi a guardare dentro il sepolcro saranno proprio loro due e da quella che nasce la fede pasquale a quella scena quando pietra entra e vede il grande lenzuolo afflosciato il sudario che stava sulla testa di gesù gonfio nella posizione di prima ma la testa non c'è più e nemmeno quel corpo pure giovanni vede le stesse cose che avvesto pietra e rispetto a pietra cominciò a credere dice il testo sepolcro vuoto non è un vuoto che non parla è come il silenzio del sabato santo è un vuoto che diventa un segno che all'occhio della fede rivela il mistero di gesù anche la comprensione delle scritture nasce dalla fede nel cristo risorto non viceversa infatti dice così giovanni in 29 non avevano infatti ancora compreso la scrittura che egli cioè doveva risuscitare dai morti la resurrezione getta luce anche sulle scritture su quello che era stato scritto la pagina di emmaus completa questa espressione quindi sepolcro vuoto non è una prova storica della resurrezione ma piuttosto è un segno per la fede io lo chiamerei lo chiamo sempre un memoriale aperto non una tomba vuoto una tomba vuota che può dirti è vuota ma è un memoriale è un segno nel senso giovaneo cioè rimanda nella fede a qualche altra cosa giovanni crede prima delle apparizioni non solo le apparizioni che gli danno la fede ma è la fede che gli fa capire le apparizioni perché lui è il amato è il simbolo come dire del credente legato a gesù da un particolare rapporto d'amore giovanni e anche il più veloce ad aggiungere il sepolcro è il primo aggiungere alla fede è l'immagine bellissima del carisma di quello che dovrebbe essere il cristiano l'uomo che corre come la maria maddalena la donna che ama è la sposa del cantico e da giovanni nasce questa fede pasquale da maria maddalena da giovanni poi condivisa dagli altri e assieme a un primato legato a pietro c'è un primato dell'amore c'è un primato direi legato a pietro che sarà il primo di questo collegio apostolico ma c'è anche un primato dell'amore e in questo primato dell'amore c'è una donna maria maddalena c'è il discepolo amato che è giovanni che hanno entrambi una particolare intuizione nel comprendere il mistero sì perché bisogna entrare sembra quasi come la siepe e l'infinito di leopardi quest'anno sono 200 anni da quella splendida poesia a volte gli uomini vedono la siepe e si fermano lì come davanti a un muro il grande leopardi appena a 21 anni dietro quella siepe attraverso quella siepe vede l'infinito ecco noi nel nel memoriale aperto dovremmo oltrepassare mirare dice il grande poeta mirare in quel memoriale aperto il mistero della fede si tratta di una fede che certo ancora non vede in pienezza ma in quel segno deve intravedere il mistero e dopo la visita sepolcro mentre i due discepoli se ne tornano quindi c'è un momento quasi di chiusura e maria che resta ancora lì certo la cosa essenziale è accaduta hanno trovato un memoriale aperto c'è tutto in ordine in quel sepolcro il grande lenzuolo affrosciato il sudario rigonfio ma non c'è la testa non c'è il corpo ci sono solo gli angeli che dicono che lui è risorto e questa cosa essenziale è accaduta ma ancora non ha stravolto la loro vita ecco perché dovranno rifare l'esperienza anche nel cenacolo come i discepoli di Emmaus devono fare l'esperienza di un gesù che risorto spiega loro le scritture la Pasqua illumina tutti i detti e i fatti di Gesù e anche la bellezza di quella scrittura che ci viene data siamo nell'anno 30 Gesù è morto il 7 aprile alle 3 del pomeriggio il giorno della Pasqua è esattamente il giorno due giorni dopo la Pasqua dell'anno 30 condannato come un malfattore è risorto ed è bello vedere che oggi davanti a questa scena ognuno di noi deve chiedersi ma ascoltiamo davvero questo annuncio Gesù ce l'aveva detto già prima proprio in quel capitolo 5 che vi citavo amen amen io dico a voi chi continua ad ascoltare la mia parola e a credere a colui che mi ha mandato già ora alla vita eterna e non va incontro al giudizio ma è già passato dalla morte alla vita come facciamo l'esperienza della Pasqua ecco la parola contenuta le scritture ecco la parola nell'eucaristia ecco la comunità che ogni Pasqua della settimana davvero vive narrando la Pasqua del Signore alleluia alleluia è risorto è davvero risorto grazie padre Ernesto dovremmo essere tutti come Giovanni che non si è perso nulla della vita di Gesù fino all'ultimo come Giovanni e come Maria Maddalena e mettiamo anche mettiamo anche lei perché le donne sono state le vere protagoniste non dimentichiamo Anna Maria che sotto la croce ci sono ben quattro donne solo un uomo c'è la madre la sorella Maria di Cleofa e Maria Maddalena e solo il discepolo amato e gli altri dove erano ci sono persi per strada le donne sono sempre state molto presenti nella vita di Gesù e lo sono anche nella vita della chiesa quindi dovremmo avere più rispetto credo proprio per la per la presenza della donna nella nella chiesa la donna è fondamentale è sorella e madre e non può essere cancellata la sua grande presenza un grande monito anche per la società di oggi grazie padre Ernesto buona Pasqua ancora buona Pasqua settimana alleluia 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 grazie a tutti Grazie a tutti.